Stefano Tessa, Persone e Idee per Isernia continua nella sua battaglia di rinnovamento della politica. Abbiamo iniziato oramai questo percorso con il gruppo di amici che ha costituito il gruppo Persone e Idee per Isernia da più di quattro mesi. Da più di quattro mesi noi stiamo lavorando ad un programma con delle idee ben precise che presto spiegheremo pubblicamente alla stampa e ai cittadini. Abbiamo intrapreso anche un percorso di aggregazione di persone, di gruppi di persone e ci apriremo a breve anche ai movimenti. Da Persone e Idee per Isernia è nato anche Coscienza Civica, un movimento che vede amministratori locali, ex consiglieri regionali, insomma un qualcosa di nuovo che sta nascendo sul territorio. Questo è l'auspicio di tutti. Come a Isernia è nato Persone e Idee per Isernia, a livello regionale si è sentita l'esigenza di una vera e propria opposizione al governo che adesso è in carica. Si è sentita l'esigenza di far ripartire la politica appunto dal basso, dagli amministratori, dei piccoli centri, dai sindaci, da coloro che tutti i giorni sono a contatto con i problemi reali della gente. Lei finora non ha esplicitato una sua candidatura a sindaco, ma dica la verità, un pensierino ce lo sta facendo. Ma per me sarebbe un onore essere il candidato sindaco di un gruppo di persone, del gruppo di persone Idee per Isernia. Al momento nulla è ufficiale, noi stiamo procedendo alla chiusura delle liste, stiamo procedendo con la chiusura del programma, poi ci riuniremo e decideremo sempre collegialmente come abbiamo fatto fin d'ora. Lei comunque proviene da un percorso politico del centrodestra che adesso si è spaccato in più tronconi, perché secondo lei? Cosa ne pensa? Io sono fuoriuscito dal centrodestra prima ancora che il centrodestra si spaccasse, questo perché era chiaro agli occhi di chi viveva questa situazione dall'interno che le logiche politiche che governano le coalizioni partitiche non sono logiche che guardano gli interessi della collettività, ma sono logiche di mera spartizione e quindi era inevitabile che il centrodestra andasse ad una rottura, una rottura che è funzionale ai partiti, ai capi dei partiti che devono contarsi e devono rivendicare la propria leadership.